Si raccusa disastro economico, meno di 50 giorni alla ecatombe industriale. La neodeputazione nazionale e regionale convochi in un tavolo istituzionale e tecnico tutti i soggetti, alcuni già riuniti in un gruppo di lavoro costituito dall'amministrazione comunale di Augusto, una riunione con istituzioni, sindacati, organizzazioni imprenditoriali e istituzioni competenti per affrontare le conseguenze delle questioni sul tappeto, l'Ucoil, IAS, Priolo Servizi e la crisi che rischia di far chiudere una delle più grandi esperienze industriali del mondo e mettere in ginocchio l'economia locale siciliana. Occorre alzare di molto la sticella dell'allarme che è stato sottolineato, riteniamo, con debolezza. Non basta uno sporadico intervento sulla stampa da parte di pochi politici, non basta un ordine del giorno di un solo consiglio comunale quando è in gioco tutto, anche i soldi, per andare a fare la spesa essenziale. L'atmosfera necessaria data la situazione di crisi epocale deve somigliare a quella del 28 dicembre del 1960 quando circa 20.000 augustani, praticamente tutta la città, scesero in piazza per salvare il porto di Augusta da un provvedimento burocratico che avrebbe tolto la città e al porto gran parte dello sviluppo conquistato dal 1949 in poi. O l'atmosfera di grande solidarietà che si costruì attorno al caso liquichimica alla fine degli anni 70 quando lo stabilimento fu destinato alla chiusura, evitato dall'intervento dello Stato e dell'Ene dopo che parlamentari di destra e di sinistra dormirono in fabbrica assieme ai lavoratori. Il 5 dicembre è vicino, meno di due mesi per portare in salvo la raffineria Lukoil di Priolo e di conseguenza il 20% della raffinazione italiana. Peraltro le operazioni di spegnimento degli impianti dovrebbero cominciare molto prima. Dal 5 dicembre l'azienda di origine russe, meditate gente su internazionalizzazione, delocalizzazione e privatizzazione, non potrà importare petrolio russo e da tempo non ha accesso al credito con le conseguenze che sappiamo. Su questo tema e sui casi giudiziari IAS e Priolo Servizi sono intervenuti personalità come il Presidente della Regione Renato Schifani. Ma il Governo ancora non c'è, non si sa con chi parlare e il tempo scorre. Necessaria una iniziativa unitaria perché veramente il nuovo Governo prossimo avventuro faccia a sua la priorità. Chiediamo alla politica, alle istituzioni, ai sindacati di istituire un tavolo permanente di monitoraggio e di iniziativa per trovare via di soluzione, proporre rimedi dove sono necessari investimenti tramite risorse nazionali ed europee. Un gruppo di lavoro da cui i nuovi eletti al Parlamento nazionale e all'Assemblea regionale non possono mancare per essere promotori ma anche veicolo di quanto necessita presso le rispettive istituzioni legislative. Gruppo di lavoro di cui dovrebbero far parte esponenti dei ministeri competenti. Questo gruppo di lavoro da istituire adesso deve chiedere subito al Governo di creare le condizioni per prospettiva anche per quanto riguarda il caso IAS che possano consentire alla magistratura di dare i tempi necessari a soluzioni tecniche per evitare il blocco dell'intero sistema industriale. Il Presidente di Unionports, Davide Fazio, annuncia fin da adesso che farà vigilanza e stimolo su queste iniziative.